ciao a tutti oggi vi propongo un diciamo pendente o qualcosa di simile facciamo un tutorial veramente di quelli proprio estivi da dovrebbe piovere ma non si decide comincia essere sterica è dunque fatto di seriamente adesso mi ricompongo allora servono sei fili di circa 6 centimetri di lunghezza e di diametro 0,50 mm di rame il mio che tra l'altro parentesi è un rame particolarissimo perché è estremamente lucente e si comporta come fosse memory cioè non sta bello il dritto è piuttosto duro e potrebbe anche spezzarne se io corro il rischio perché intanto ho un pomeriggio di quelli un po' a dire che non sei nemmeno tu no che sei un po così non ti va niente allora quello che serve fare dopo aver unito i vostri bei 60 cm di filo 0,50 di rame quello di cercare più o meno centro che ci servirà poi per appendere questo che sarà presumibilmente un albero o un tralcio di perché ho le pietrine verdi tralcio della vita chiamiamola così per non fare sempre le stesse cose serviranno delle pinze un po' grossolane tipo questa questa fa particolarmente schifo ecco tipo questa con con cui io mi tengo un po' la metà vedete che si gira come se avesse i riccioli come me allora io incomincio un pochettino dalla metà a storcicchiare leggermente il cavolo di filo che è molto molto fastidioso da da lavorare perché si comporta in una maniera veramente stramba e lo costringo a girarsi come voglio io scusate queste pinze sono veramente snorride quando avrò fatto un po' di avvolgimenti senza far cadere niente senza uccidermi senza far danni senza scottarmi cosa che succede spesso e volentieri io vado a farmi un po' questo lavoretto come dicevo di avvolgimento del filo su se stesso e la faccio un pochettino perché mi serve proprio come come gancio come come cerchio diciamo per sarebbe ottimale ecco magari mara che tu lo tenessi vabbè facciamolo con le dita tanto tipo che importa che importa facciamoci del male sì ma perché si stia una parte con le dita è con una pinza con l'altra si gira e forse più facile è un tutt'ora del pazzo questo proprio non lo faccio proprio perché niente benvenuto in mente mentre stiravo mentre stiravo io penso alle cose che mi portano lontano da tutto quello che è lavoro domestico una reazione psicologica psicosomatica ai lavori di casa quindi lo storcito ancora anche per scaricare il nervoso che mi è venuto nel frattempo ecco no non è per niente professionale tutto allora io adesso cerco una pinza un pochettino più decente scusate ma se strappo qualche risata va anche meglio che importa allora mi tengo a fermo come dicevo il il filo con con una pinza con l'altro vado a storcicare vado ad avvolgere altrimenti non mi passa più ecco vedete questo era quello avete anche degli avvolgimenti un pochettino più precisi parte che questo filo fa quello che vuole lui non so era una matassa di rame normale invece si comporta così come un folle un po' come la giornata di oggi è il principio di state tra l'altro evviva io odio il caldo allora ci sono un po' delle cose che mi danno fastidio eh no allora ecco qua ora voi vi aggiustate un pochettino se volete provare a farlo ovviamente perché nessuno vi costringe praticamente avete una sorta di anello che possiamo anche sistemare meglio diciamo un marcello ma non voglio intera posto non ho voglia ecco qua un penarello vi fate principio di un tronco avvolgendo i vostri fili metallici il mio potrebbe rompersi e ve lo dico il suo giac potrebbe accadere questo quindi ci vado un pochettino piano perché l'ho già trattato volevo buttarlo via poi mi scocciavo un po' per l'esercizio avrei avrezzi avrebbero dovuto spero poi mi è molto bene per altri albori non prodotta questa caratteristica insana che a dirigirarsi per i fatti su dire che è riccio non sta dritto dicevamo questo rame un po' difficile da gestire che la dura la vince caro rame tu mi vuoi fregare ma io non te lo faccio fare adesso grosso modo si tratta di dare la forma al tronco praticamente come se voi stesse facendo il classico albero della vita però senza la cornice la cornice che di solito è rotonda a queste forme così sempre un po le stesse diciamo tenuto il mio tronco che è già comunque abbastanza consistente perché è un tronco formato da sei fili e scelgo sempre numeri pari perché perché quando poi vado a unire i miei fili e divideri in rami io mi trovo sempre a dover controllare quanti rami sono quelli diciamo quelli pari faccio due per gli avvolgo due a due praticamente per farla semplice ora vado un po ad aprire il mio folle rame e appunto faccio delle divisioni per due vendito sei fili quindi dovremo ottenere quanti rami matematica 1 2 questo è il suo pettina per i tutti perché vedete un maledetto è il suo figlio 2 poi me lo apro ancora così e faccio vado aprire a ventaglio questi 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 figli sono 1 2 3 4 5 e 6 appunto perché non sono 12 perché li ho piegati ovviamente a metà bello scoperto allora adesso lavoro un pochettino i rami questo lo faccio prima di andare a sedere le mie chips io ve lo faccio sempre con un po di cautela perché ho un pochettino i rami pazzo e faccio ma posso anche fare a 3 3 a 3 2 vediamo un attimo piccoli avvolgimenti così posso partire coi tronchi un pochettino più grandi facciamo 3 3 si è meglio fate 3 anche voi se volete se state seguendo il tutorial se volete fare e mi vergogno un po chiamarlo tutorial e poi magari vi posso anche fare un rama grande da 4 massima libertà vi dovete divertire proprio per me se non passa per passatempo è avevo avevo questi pezzettini di chips che non sapevano quando sapevo come utilizzare mi spiaceva buttare via allora ho detto provo a fare qualcosa così intanto fuori aspetto che il tempo si decida e mi dica se pioverà oppure no prima che io diventi pazza fuggiosa perché è vero che si svolge e sono un esempio vivente ebbene sì dunque arrivato a questo punto quel che ho preso in quattro fili torna momentaneamente a vediamo un attimino dividerlo ancora in due in modo che io abbia adesso un ulteriore diramazione sempre in due non lo posso fare troppo lungo se non se si appende non si finisce mai è tremendo questo sarà meno non si gira l'odio allora guardate allora qui non ce n'è tutto per gatti non ho voglia di farmi rompere le scatole questo e ritorno a fare sempre un po i miei allora ho diviso quello un 42 quello 3 lo lascio così com'è e poi mi vado a sistemare un po quello ancora in da due no mentre anche questo ha fatto ciò lo riapro bene questo continua a storci e siccome mai non crede e io niente faccio l'importante venga benino perché sennò diventa una peretta di tempo sarebbe meglio andarsene a dormire questo è il mio albero ora spero inquadrato adesso incomincio a infilare le mie chips 0,5 è la misura giusta oltre la quale è difficile che riescano a passare nei trami e non vi farò vedere tutta l'operazione altrimenti vi addormentate comunque alternando senza troppi troppi problemi così i vostri colori o monocolore o insomma potete farlo con qualunque chips voi vogliate io qui o dalla madre per la perla o qualche pezzetto di cristallo di rocca per le strucchese verdi mi sembra insomma c'è un bel agata bianca c'è un po di tutto e me in filo con pazienza quando poi li avremo infilati anche dall'altra in un altro ramo adesso bisogna vedere un pochettino come poi ci vorrà farlo anche un po ricco non si ancora dall'altra parte fatto con questo qui dovrebbe essere un pezzo di lapislazio questo dovrebbe essere dell'agata viola agata proprio alterna un po i miei colori io faccio in due rami a partire da due cioè nel senso prima in uno poi né l'altro faccio più o meno la stessa distanza così ok che manca sicuramente uno e ora tutto ciò io decido di chiudere il mio e i miei pietre uno per non farle scappare due perché questi figli poi io dovrò in qualche modo sistemarli vado cilado a pianta che io so che poi questo mi ci molla perché è veramente tremendo questo questo rame qua poi gli daremo una forma la stessa cosa va fatta con questi figli questi tre che ho al centro voi magari avete due come meglio credete e poi ancora con questo stesso procedimento si va avanti così non vi faccio vedere tutto altrimenti vi faccio dormitare mi manca mancherà giusto la nina nana ora ti faccio vedere un pochettino come è avvenuto il mio albero allora qui come vedete ci sono degli avvolgimenti ma ci sono degli avvolgimenti qua ci sono gli avvolgimenti e li ho fatti per fermare i miei i miei pezzetti di pietra quello che andiamo a fare adesso è con un filo da 0 8 1 anche meglio millimetri è andare a legare i fili come si fa in un normale albero della vita di quelli chiusi nei cerchi o forme simili lasciate il filo libero ne tagliate circa mezzo metro minora su guardanti mi hanno misure si va bene lo troncate per avere il modo di lavorare in maniera più libera e meno fastidiosa e andate tenendo un pochettino aperto voi aggiustatelo sempre un pochettino con le pinze in aria non se l'avete o anche così questo facendo io con le dita togliendo i punti magari erano avvolti quindi li possono dare fastidio e infominciamo guardando un pochettino la forma l'ha studiato un attimo può anche non essere rotonda fate voi filo per filo andiamo a fare i nostri avvolgiamenti partendo da quelli esterni e ne faremo un pochettino perché questo consentirà spingete in dentro e girate facciamo un po di coiling manuale consentirà al vostro lavoro di rimanere bello fermo e intanto il corso coiling diciamo farà un po di motivo anche per dare un po di movimento al lavoro essendo aperto il filo il lavoro è agevolato potenete ferma da una parte e girate cercando di essere più precisi possibile se rimane un po di spazio fra una voluta l'altra voi potete compattarla con delle pinze a chiudere questo potrebbe già essere sufficiente perché io poi devo fare anche gli altri per momento non taglio questo lo tiro su e questo lo avvolgo intorno a questo filo libero che è leggermente più spesso rispetto quello che avete già usato e vi avvicinate un po facendo questa operazione praticamente avrete fissato i vostri trami e questo è uno potete se volete già tagliare l'eccesso di filo deve rimanere dietro fatelo con delle pinze un pochettino più piccole di queste ma non è necessario siano dei bestioni da elettricista però per anche stare mi serve anche per far capire la facilità con cui sto eseguendo il tutto è sistemato un pochettino e cominciato a lavorare sempre tenendo fermo il vostro filo a girarlo intorno alla vostra base a cornice come volete chiamarlo una volta più piccola la cosa più piccola se volete avrete avvolto tutti i vostri fili e troncato gli eccessi andremo a dare la forma del filo più spesso che fa appunto dal contorno fatto tutto questo giro di fili io vi consiglio di usare delle pinze che vi consentono di schiacciare bene questo filo da 0 5 come dicevo è particolarmente fastidioso se punge la pelle perché proprio può graffiare più graffia quindi dovete prestare bene e controllare che non ci sono dei punti in cui va a pizzicare quello che pizzica va assolutamente eliminato altrimenti l'oggetto può non essere utilizzato come come ciondolo perché da fastidio e questo non va bene quando avete fatto questa cosa con il filo più spesso potete a questo punto un po' sbizzarrirvi nel senso che l'avete adesso il l'albero è visibile in questo modo e con questo filo potete infilarvi tra i rami o fare delle volute tornare su potete muoverlo in qualunque direzione per concludere il e dare un ulteriore come dire senso di stabilità visto che non può essere in questo momento un martellato ovviamente perché è attaccato già al al nostro albero quindi o si parte facendo già una martellatura del filo che comunque lascerebbe un po tempo che trova secondo me in questo caso perché non è un filo sufficientemente quello 08 spesso per poter fare un lavoro del genere quindi io posso pensare se voi fate un disegno prima di partire anche meglio io vado un po a occhio mi vado a infilare un po qui è un po la nella mia struttura in maniera tale che appunto come dicevo si creano un po di movimenti circolari spostando il filo leggermente facendo attenzione a non rompere sicuramente quello che già avete con le coni che potete aiutare sicuramente a sicuramente a appiegare ulteriormente il vostro filo e dargli delle forme che vi permettono di girarci intorno un po giocarci entrando uscendo poi la potete dovete fare uno schema vostro dovete praticamente disegnarvi un'idea da da seguire questo per per appunto dare una forma sensata al al vostro filo di rame più grande da abbiamo detto 0 8 un millimetro in questo modo la forma come ho detto si consoliderà ma avrete anche una struttura molto più stabile molto più come si può dire non conosco molti termini per spiegare questa cosa comunque per creare un movimento intorno alla al filo base insomma possono anche essere appunto come vedete delle dei giri potete aggiungere anche dei componenti che non sono assolutamente wire ma magari sono dei charms o dei piccoli ciondoli o delle perle insomma potete veramente sbizzarirvi e fare un po' quello che volete io qua sto proprio inventando di sana pianta penso si noti anche abbastanza vado spedita dritta verso la meta e mi certo appunto a passare un po' qui un po' là anche per andare a ripescare questi fili che quello sottile sottile che viene usato proprio perché questi 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 chips sono particolarmente hanno i forellini piccini quindi non si possono fare dei gran non si possono usare fili troppo spessi allora questo potrebbe essere un buon trucchetto proprio per come dire dare al al vostro insieme un senso un pochino più compiuto un pochettino più elaborato un gentilito anche su certi aspetti io adesso praticamente che sto creando solo delle ondine non mi avvolgo intorno a questa cosa che posso fermarmi perché ho ancora questo filo da muovere vi faccio vedere adesso qui potrei invece passare sotto sotto passare sotto così e incominciare ad avvolgere in questo senso proprio perché se non sono venuti bene le giratine di avvolgimenti intorno al filo portante con questo potete un pochettino che non fare eventuali imperfezioni che secondo me tra parentesi in un lavoro fatto a mano un po' hanno anche un senso cioè ci possono stare avvolgere in un po' avvolgo ancora un po' mi aiuta e mi sposto sempre un po' all'interno poi se abbiamo la fortuna di lavorare con il caldo come sta succedendo a me il filo essendo più morbido perché sente il caldo che diventa un pochettino più maleabile vi consentirà di poter entrare uscire senza rischi di spezzature eccessive si va abbastanza sicuro anche qui faccio un po' di movimenti all'interno anche del dei miei rami mi infilo e qui dove c'è questo spazzetto mi sembra un po' vuoterello posso pensare di fare una piccola spirale wire e 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 un po il filo lo sistema taglio l'eccesso con le pinze quelle belle ne abbiamo e veniva a fare la mia spirale è proprio un tutorial un po scemino ma potete veramente fare quello che volete sbizzarrirvi in pochi minuti l'ho realizzato insomma se si amare la mia spirale questo punto e sono arrivata poi è tutto un po da sistemare io posso infilarmi dentro questa voluta accompagnare il figlio rientrare ancora a fare una spirale volendo ripeto voi potete farvi uno schema seguirlo un pochino con più precisione adesso faccio soltanto un tutorial al volo e poi proseguo creando questa spirale e volendo si può ancora tagliare del filo della stessa misura e aggiungerne altri finché non avrete un insieme di figli che entrano e escono a bordare anche un po il lavoro già fatto in questo modo ora io vado a sistemare un pochettino con le mie pinze piatti piatti che ho in questo momento a portare di mano e senza arrivare il filo e senza rigare il filo vado a schiacciarlo in maniera che mi stia bene aderente al filo che ho già usato se vi piacciono le linee tondeggiando un po come me che sono un po fissata con le coniche potete tranquillamente rigirare ancora un po i figli e sistemarli come meglio volete la complessità di questo lavoro in teoria dipende unicamente dal vostro gusto e dal vostro tempo e dà la voglia di fare qualcosa di un definitivo un pochettino diverso dalle solite cosucce potete allargare un po i rami facendo attenzione sempre a quei famosi 0,50 che come millimetri non sono proprio tanti 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 eh quindi la costezza è quella che non si può forzare troppo un lavoro con un filo così sottile del resto se non si usa questo non si può infilare la perla le chips perché gioco forza non si può fare non ci volevo verso di infiarle questo discorso e così facendo posso sollevare insomma posso dargli un po la forma che voglio io volete voi a questo punto il nostro albero è abbastanza proporzionato i rami discretamente distanziati e non resta che trovare una catenina o un cordino tipo questi che ho comprato su amazon ne vendono un fascio hanno già il loro il loro gancio e hanno già loro l'ornellino sono di mi pare cotone cerato non cordoncino cerato pardon e a questo punto voi avete sistemati il vostro gancio datevi la forma che se vuole dare una forma a goccia va anche bene agganciare sono comodissimi e vanno bene per essere utilizzati in questo momento è praticamente lavoro io l'ho finito il vostro non lo so perché dipende a quello che volete fare voi io vi saluto grazie per avermi seguita avermi tenuto compagnia in questa giornata un po stramba ciao 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 ciao